Lei ha Crotone per questo congresso? Sì, il congresso dell'Ampi che è un momento particolare di apertura e inclusione. L'Ampi allarga le braccia in nome della Costituzione, quindi chiunque si senta parte attiva di un percorso di piena affermazione dei valori costituzionali, soprattutto nell'attualità, nel mondo di oggi, cosa di cui c'è tanto bisogno, l'Ampi c'è e rilancia. E quindi su Crotone l'Ampi c'è e rilancia. Cosa avete intenzione di rilanciare? Abbiamo intenzione di rilanciare innanzitutto il sistema di valori che dalla resistenza ha dato il via al vivere comune in una società civile. Faccio un esempio su tutti. Il diritto al lavoro, previsto e riconosciuto dalla Costituzione repubblicana, non è un diritto per tutti. Il diritto alla salute, mi riferisco in special modo all'ipotesi di autonomia differenziata, qualora dovesse essere praticata, non è un diritto per tutti. Il diritto alla formazione, tutti quei diritti costituzionalmente riconosciuti hanno ancora bisogno della piena attuazione, non solo di essere predicati ma di essere affermati. Quindi l'Ampi è per quello che può, è per quello che deve, come è evidente cerca di fare il suo in quest'ottica. E sulla politica che cosa ci dice? Di che cosa si può parlare anche in questo congresso dell'Ampi per la politica? Faccio un esempio anche qui per capirci. C'è un tema d'attualità purtroppo dominante, dico io, che è quello della guerra. La politica deve assumersi la responsabilità di chiedere a gran voce il cessato, il fuoco, il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, secondo cui l'Italia si ripudia la guerra e si deve fare ogni tentativo possibile perché tacciano le armi e prevalga la diplomazia, ovvero il negoziato. Se prima non c'è l'uno non può esserci l'altro. E arrivo anche a dire una cosa molto più pertinente. Era il mese di novembre quando un centinaio tra premi Nobel e scienziati lanciarono un appello a gran voce e dissero a tutti i paesi del mondo, e la guerra ancora era lontana, disarmiamoci, riduciamo del 2% il pillo di ogni paese delle spese per gli armamenti e facciamo in modo che si sostengano i disagiati, i colpiti dalla pandemia, i più poveri del mondo. In effetti quel grido di dolore è rimasto inascoltato. Lampi invece disse che era una cosa da farsi. Non siamo stati evidentemente buoni profeti, i fatti dimostrano però che il buonsenso deve arrivare prima, ahimè, della retorica.